Salve a tutti, è un piacere per me moderare questa sessione della quattordicesima conferenza nazionale di statistica sulle dimensioni della disuguaglianza. Io sono Cristina Freguglia, sono direttore delle statistiche sociali e del welfare e quindi è un tema che evidentemente mi sta molto a cuore, è un tema di grande interesse su cui il dibattito è sempre acceso e al quale hanno contribuito sicuramente i relatori che oggi andremo ad ascoltare e che si soffermeranno proprio sulle diverse dimensioni della disuguaglianza. L'aumento della disuguaglianza è un problema che destra molta preoccupazione anche se ancora qualcuno minimizza la questione affermando che tutto sommato la disuguaglianza costituisce la spinta alla crescita economica che proprio per questa per questa via consente di migliorare le condizioni di vita di tutta la popolazione. Ma in realtà i dati che sono stati analizzati da autorevoli studiosi e istituzioni Stiglitz, Atkinson, Loxe o il Fondo Monetario Internazionale, solo per citarne alcuni, hanno mostrato che non c'è correlazione tra la crescita e la disuguaglianza e al contrario che la disuguaglianza ha effetti negativi sulla crescita economica. In periodi di crisi economica le disuguaglianze sociali espongono alcuni gruppi a maggiori rischi di esclusione sociale, di impoverimento e non solo dal punto di vista strettamente monetario. Nella nostra società si osservano diverse forme di disuguaglianza che non attengono solamente alla distribuzione di risorse materiali ma anche alle dotazioni di capitale umano, di capitale sociale, di salute. Oggi ci soffermeremo insieme ai nostri relatori su alcune dimensioni della disuguaglianza, dimensioni che anche in una situazione di congiuntura favorevole possono determinare situazioni di difficoltà, di disagio, di deprivazione in alcuni segmenti di popolazione, facendo pagare un prezzo alto per questo fenomeno, un prezzo alto che si traduce nella vedere alcuni soggetti, alcuni gruppi che si allontanano dal dal resto della popolazione, alcuni territori che vedono ampliare la propria distanza rispetto agli altri territori che che proseguono nel loro percorso di sviluppo, alcuni segmenti di popolazione che peggiorano e con i minori che si confermano come il gruppo più vulnerabile, rischiando di mettere a repentaglio il capitale umano più importante, proprio quello dei giovani, per di più in una società come la nostra che è affetta da da un invecchiamento demografico inesorabile, dove le nuove generazioni hanno un peso scarso dal punto di vista numerico, ma non solo, dove hanno poca voce, dove il malessere demografico rischia di di mettere in moto una catena di reazioni pericolose sul piano sociale ed economico. Ma andiamo ad ascoltare i nostri relatori a partire dalla dottoressa Nicoletta Pannuzzi che ci parlerà di mutazioni del del lavoro e e come queste appunto impattano sulla disuguaglianza. Prego. Eh grazie eh salve a tutti ehm è un piacere per me partecipare a questa sessione. Io sono appunto Nicoletta Pannuzzi eh responsabile all'Istat del servizio eh sul sistema integrato lavoro, istruzione e formazione. Ehm oggi eh diciamo sono qui eh per presentare un contributo riguardo il diciamo l'impatto di quelli che sono eh le mutazioni del del mercato del lavoro e delle forme di partecipazione al mercato del lavoro degli individui di come questi possono avere impatto sulle disuguaglianze nel nostro paese. Quindi condivido la mia presentazione. Allora eh cosa è cambiato diciamo nel corso degli ultimi 50 anni nel nostro paese. Allora come ben sappiamo l'occupazione verso la fine degli anni settanta quando cominciamo avere una produzione appunto di dati statistici eh sistematica e anche dettagliata in particolare sul la partecipazione al mercato del lavoro e l'occupazione era un mercato del lavoro essenzialmente eh descrivibile tramite due figure preponderanti di partecipazione al mercato del lavoro quella dei dipendenti e quella dei lavoratori non dipendenti che rappresentavano rispettivamente i due terzi e un terzo del eh l'insieme degli occupati nel nostro paese. È un'occupazione che aveva come carattere dominante il fatto di essere un'occupazione sostanzialmente maschile e solo un terzo delle donne eh risultavano partecipare al mercato del lavoro. Un'occupazione a sostanzialmente a tempo pieno quindi in cui appunto c'era una partecipazione o non partecipazione al mercato del lavoro con un carattere di permanenza soprattutto per quanto riguarda appunto il discorso dell'occupazione dipendente. Ovviamente nel corso degli anni si sono sviluppate nuove forme di partecipazione del mercato del lavoro alcune figure sono ovviamente diffuse in maniera abbastanza importante e inevitabilmente anche le classificazioni eh statistiche e quindi anche le modalità con cui la statistica riesce a descrivere quelle che sono i cambiamenti e l'evoluzione del mercato del lavoro hanno dovuto seguire questa evoluzione che nel tempo si è verificata. In particolare nel corso degli anni anni arriviamo quindi all'inizio degli anni duemila eh diciamo iniziano a ad avere un ruolo abbastanza importante le figure dei lavoratori a termini che già all'inizio degli anni duemila erano rappresentavano quote pari al sette per cento circa della popolazione degli occupati ma anche figure di lavoratori part time e in particolare i lavoratori part time involontari cioè lavoro lavoratori che partecipano sì al mercato del lavoro ma non in maniera così intensa come vorrebbero che già all'inizio degli anni duemila su una platea del dodici virgola sette per cento dei lavoratori part time rappresentavano circa poco meno del cinquanta per cento essenzialmente il sei virgola due per cento e nel corso degli anni si cominciano e proprio proprio all'inizio degli anni duemila si cominciano anche a creare delle forme di partecipazione al mercato del lavoro con figure più ibride rispetto a questa diconomia tra dipendenti e non dipendenti e quindi inizia a si crea proprio una figura di collaboratori che parte da un contesto di lavoro non dipendente ma diventando via via sempre più un ibrido per caratteristiche tra lavoratori non dipendenti e lavoratori dipendenti che eh appunto già negli anni duemila rappresentano il due virgola due per cento degli occupati l'evoluzione e diciamo è anche questo eh diciamo distinzione molto più fluida rispetto al passato tra lavoro dipendente e lavoratore non dipendente ha fatto sì che eh diciamo eh recentemente lo stesso ILO cioè l'organizzazione internazionale sul lavoro ha prodotto una classificazione che eh diciamo usando l'acronimo è la cosiddetta X18A che è l'ultima classificazione prodotta dall'ILO sullo status in employment quindi sullo stato occupazionale che addirittura non è stata ancora recepita a livello europeo che tuttavia grazie anche ai dati dell'indagine della rilevazione sulle forze di lavoro ci permette di fare alcune stime abbastanza soddisfacenti e quindi con un'approssimazione molto importante rispetto appunto a quelli che sono queste figure diciamo che essenzialmente devono essere prese in considerazione anche per descrivere qual è la situazione e le diverse forme di partecipazione al mercato del lavoro nei nostri anni. I dati che eh state vedendo nella slide si riferiscono al 2020 e ci dicono che essenzialmente i lavoratori non dipendenti attualmente rappresentano il 22,5% degli occupati quindi poco più di un quarto della popolazione di occupati con datori di lavoro che chiaramente è la parte meno eh diciamo estesa e gli autonomi puri senza dipendenti che rappresentano il 13,1% ma identifica anche due forme di partecipazione al mercato del lavoro che eh diciamo possono essere eh individuati come il cosiddetto lavoro subordinato che sono i dipendenti al contractor e i coadjuvanti familiari. Poi abbiamo tutta una serie di figure che rientrano in una classificazione di lavoratori dipendenti che rappresentano nel loro complesso il 77,5% degli occupati del nostro paese che possono essere distinti rispetto al fatto di essere lavoratori permanenti full time o part time che sono ovviamente la grande maggioranza ma abbiamo quote crescenti e importanti di lavoratori a termini anche rispetto alla durata del contratto che si diciamo equamente distribuiscono tra quelli che hanno contratto inferiore a sei mesi e quelli che hanno contratto superiore a sei mesi poi vedremo nel dettaglio di chi stiamo parlando è una quota decisamente marginale ma presente che è quella della classe che è quella della classe classificazione che finalmente diventa una classificazione perché noi stiamo parlando di forze di lavoro di di forme di lavoro che ormai eh sono presenti nella come dire nella realtà del mercato del lavoro da circa vent'anni finalmente accolgono diciamo anche una rilevanza statistica in termini di classificazione e ci portano a dire che effettivamente il lavoro cosiddetto standard cioè quello che noi vedevamo appunto nella prima slide di di che caratterizzava appunto il mercato del lavoro 50 anni fa di fatto solo il 50 per cento dell'occupazione attualmente è cosiddetta standard in termini di lavoratori dipendenti cioè a tempo indeterminato e full time a cui si aggiunge un diciamo una una quota inferiore di poco inferiore al 20 per cento di cosiddetti lavoratori non dipendenti tradizionali cioè includendo in questo imprenditori liberi professionisti e lavoratori autonomi quindi abbiamo una quota che circa un quarto e venticinque per cento di occupati non standard e all'interno di tutte queste categorie in particolare dei lavoratori non standard possono essere individuate categorie sotto categorie di lavoratori che presentano elementi di vulnerabilità importante perché primo fra tutti hanno o non hanno o hanno in questo caso nel caso di vulnerabilità per mancanza di regolarità del rapporto di lavoro l'indagine la rilevazione sulle forze di lavoro come sapete include il lavoro irregolare o parzialmente irregolare pur non potendo darne una stima e la stima come sapete in questo senso proviene da contabilità nazionale che comunque considera una platea di lavoratori più ampia rispetto a quella che vengono viene considerata nella rilevazione delle forze del lavoro che include anche il lavoro irregolare delle persone irregolarmente presenti sul territorio però è una stima che insomma è intorno al 13 per cento negli ultimi dati disposibili c'è anche una vulnerabilità che però diciamo come dire si palesa e viene vissuta dai lavoratori anche nel caso siano lavoratori irregolari perché magari hanno tipi di contratti che non prevedono contributi assicurativi obbligatori e hanno coperture solo per rischi specifici quindi ad esempio infortuni ma non hanno coperture per malattie o piuttosto per periodi di interruzione il fatto di avere appunto questa diciamo partecipazione spesso a tempo determinato intermittente non garantita al mercato del lavoro determina che queste persone rischiano anche di non raggiungere i requisiti minimi per avere accesso ad alcuni diciamo strumenti anche di sostegno e di protezione sociale così come spesso c'è una difficoltà soprattutto per i lavoratori a tempo determinato gli autonomi che possono cambiare lavoro di riuscire a ricongiungere in maniera soddisfacente i periodi di contribuzione anche se è versata e tutto questo quindi determina che anche non solo il reddito di queste persone ma anche il livello delle prestazioni sociali sia presente che futuro se pensiamo appunto anche a un sistema di prevenzione un sistema pensionistico che in qualche modo si basa su un concetto abbastanza standard di partecipazione del mercato del lavoro sicuramente somma su alcuni soggetti delle vulnerabilità che nel presente e nel futuro possono sicuramente determinare importanti forme di come dire di disuguaglianza e nei casi specifici anche di esclusione sociali vediamo alcune esemplificazioni di questo prima fra tutti i lavoratori a tempo determinato i lavori a tempo determinato sono 2 milioni 675 mila nel 2020 che ha un valore leggermente inferiore agli oltre 3 milioni che erano stati registrati nel biennio pre pandemia va detto e questo rientra sempre in questo discorso che stiamo affrontando che proprio gli effetti del covid su questa particolare sottopopolazione sono stati molto importanti perché perché i contratti a tempo determinato rappresentano ormai quasi l'ottanta l'ottanta per cento delle attivazioni di nuovi rapporti di lavoro cioè chiaramente è ovvio che la diciamo i flussi in entrata un'uscita dal mercato del lavoro sono principalmente determinati dai contratti a tempo determinato ma è anche vero che nella pandemia in particolare c'è stata una cessazione a cui però non è non è corrisposta un l'attivazione che normalmente segue eventuali appunto cessazioni di lavoro a tempo determinato il grafico sottostante il grafico più in basso dimostra proprio questo cioè la pandemia ha colpito questi lavoratori perché sono cessati dei contratti ma non sono stati riattivati come normalmente succede in questa sequenza e nel corso degli anni purtroppo si è anche osservato una progressiva diminuzione delle trasformazioni dei tempi determinati a tempo indeterminato cosa significa questa che l'idea che anche un contratto una partecipazione al mercato del lavoro a tempo determinato possa essere un canale per inserirsi nel mercato del lavoro e proseguire poi con una diciamo partecipazione permanente più stabile di fatto perde potenza rispetto al passato e va anche detto che la durata dei contratti a termine è particolarmente diciamo interessante diciamo così cioè che un terzo delle posizioni lavorative attivate a tempo determinato prevede una durata di massimo un mese e ben un decimo solo un giorno quindi diciamo che alla fine di tutti questi contratti solo un decimo è di durata superiore alle 12 mesi e quindi i lavoratori a tempo determinato sono una categoria da tenere sotto controllo rispetto anche al discorso delle disuguaglianze perché il lavoratore a tempo determinato hanno una retribuzione più bassa sia perché lavorano di meno cioè proprio come tempo di lavoro dovendo inevitabilmente eh subire interruzione quindi avere dei periodi anche di non lavoro hanno una partecipazione media circa di 28 settimane l'anno che è circa 17 settimane eh più bassa di quella dei lavoratori a tempo eh indeterminato sia perché vengono retribuiti di meno cioè il eh il grafico ci dimostra chiaramente come senza purtroppo distinzione di genere ma eh diciamo trovando sempre le donne in un livello di retribuzione più basso rispetto agli uomini le eh diciamo i lavoratori con contratti a tempo determinato hanno retribuzione lordi orarie eh diciamo media in mediana decisamente più basse rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato chiaramente questo risultato è un risultato all'ordo di quelle che sono le caratteristiche dei contratti a tempo determinato indeterminato perché i primi chiaramente sono generalmente contratti di lavoro che vengono fatti a lavoratori con meno esperienza non includono chiaramente il fatto che possano esserci anche mansioni e eh con come dire profili professionali più bassi detto questo però rimane il risultato che comunque in generale i tempi determinati eh vengono retribuiti meno proprio in termini di retribuzione loro orraria dei tempi indeterminati e in più le ore retribuite lavorate sono decisamente più basse un altro diciamo figura da tenere in considerazione quando parliamo di disuguaglianze nella partecipazione al mercato del lavoro sono sicuramente i lavoratori cosiddetti intermittenti o a chiamata e i lavoratori in somministrazione diciamo che sono due fenomeni che in Italia interessano quattrocentotrentacinque mila eh lavoratori per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione centottantasette mila per quanto riguarda i lavoratori intermittenti perché è interessante andare nel dettaglio di questo sottogruppo perché diciamo innanzitutto sono tutte e due tipologie contrattuali caratterizzate da una forte componente di stagionalità quindi significa che chiaramente questo tipo di questi lavoratori possono avere periodi anche lunghi di non partecipazione al mercato del lavoro e poi diciamo hanno in particolare gli intermittenti un'intensità lavorativa decisamente ridotta in media infatti svolgono dieci virgola sei giornate retribuite al mese e il doppio circa è il numero medio delle giornate retribuite per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione cioè ventidue virgola tre ma va anche detto che proprio per le caratteristiche del lavoro in somministrazione spesso questi lavori eh questi lavoratori eh è vero che lavorano nei periodi in cui lavorano in maniera intensa ma spesso lavorano in luoghi diversi in situazioni diverse con datori di lavoro diversi perché è proprio questa la caratteristica principale del lavoro in somministrazione quindi anche con un'organizzazione un'organizzazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro che non necessariamente è così semplice oltretutto lo vedete dal grafico il lavoro in somministrazione a chiamata hanno un andamento molto determinato da quelle che sono le normative che lo regolano in particolare il lavoro a chiamata diciamo aumentano e diminuiscono in parallelo rispetto all'utilizzo di voucher per come dire l'utilizzo di attività lavorativi di questi lavoratori quindi laddove entrano in vigore possono essere utilizzati i voucher e i lavori eh diciamo i lavoratori a chiamata cosiddetti e quindi eh classificati come tali diminuiscono riaumentano nel momento in cui l'utilizzo dei di voucher viene inibito. Andiamo a un'altra categoria interessante che è quella dei lavoratori in part time involontario cioè lavoratori che lavorano in part time quindi inevitabilmente lavorano meno ehm degli altri chiaramente lo vediamo con una differenza appunto che è variabile sia per genere eh perché spesso eh diciamo il come dire la il le le ore settimanali insomma cambiano a seconda se siano dipendenti o indipendenti e e diciamo quindi eh parliamo di una fetta di popolazione che è circa tre milioni e mezzo anche questo il leggero calo rispetto al bianno precedente perché anche in questo caso eh diciamo i lavori part time hanno subito una diminuzione di possibilità di lavoro rispetto agli altri più importante e soprattutto eh troviamo che bene il 65 per cento quindi non siamo più già agli anni duemila quando eravamo al di sotto del cinquanta per cento siamo saliti al sessantacinque per cento per un totale di due milioni settecentotrentacinque mila lavoratori che sono in part time involontario ciò significa che lavorano part time ma vorrebbero lavorare più tempo e quindi guadagnare di più consapevole del fatto lo vediamo nel secondo nel secondo grafico che ancora una volta la retribuzione lorda oraria eh delle dei lavoratori a tempo pieno è inferiore eh a tempo parziale scusate è inferiore a quella dei lavoratori a tempo pieno veniamo ora al lavoro non dipendente lavoro non dipendente diciamo l'Italia tradizionalmente eh è caratterizzata da una eh quota di lavoratori non dipendenti più alta rispetto agli altri paesi e anche agli altri paesi europei in questo senso diciamo la situazione italiana sta convergendo alla situazione degli altri paesi europei con una diminuzione una progressiva erusione del lavoro autonomo stiamo a meno diciassette virgola cinque per cento rispetto al duemilaquattro una però eh erosione del lavoro autonomo che non ha coinvolto i liberi professionisti in particolare gli studi di liberi professionisti senza dipendenti che addirittura aumentano la propria diffusione sul mercato del lavoro di circa il trenta per cento diciamo che nel duemilaventi i lavoratori non dipendenti sono cinque milioni erano sei milioni e cinque milioni centocinquantotto quindi un milione e meno di quelli che erano nel duemilaquattro ma a calare sono soprattutto gli imprenditori che ormai rappresentano solo il cinque per cento dei non dipendenti ma soprattutto calano i lavoratori improprio soprattutto i lavoratori improprio senza dipendenti quindi essenzialmente parliamo di agricoltori artigiani commercianti e diminuiscono anche le forme diciamo ancora più deboli di partecipazione al mercato del lavoro che sono i coadiuvanti collaboratori e soci di cooperativa e sì in questo senso si eh sta delineando sempre di più un aumento della polarizzazione tra forti e deboli del lavoro tra i lavoratori non dipendenti perché anche non solo appunto di partecipazione al mercato del lavoro ma anche di polarizzazione dei redditi e degli introiti cioè noi abbiamo i professionisti con cassa che si caratterizzano mh negli da tra negli ultimi negli anni dal duemilaquattordici al duemila diciannove per una crescita intorno al quattro per cento del loro reddito medio a fronte di un calo di bene il dieci per cento dei i redditi dei professionisti iscritti alla gestione separata IMS e quindi abbiamo proprio una forbice per cui il reddito medio degli iscritti alle gas è circa il doppio se non di più di quello degli iscritti alla gestione separata IMS quindi una parte avviare dovresti avviarsi alla conclusione ok un ultimo aspetto riguarda i dependent contractors che è questa figura nuova una figura decisamente ibrida perché in teoria sono lavoratori autonomi ma sono vincolati da rapporti subordinazione con un'altra unità che ne limita l'accesso al mercato e l'autonomia organizzativa quindi proprio perdono il senso di una retribuzione di un lavoro autonomo e hanno importanti elementi di fragilità economica perché spesso la dipendenza organizzativa non è solo in termini di luogo ma in termini di orari e anche di strumenti di lavoro oltre che una dipendenza economica legata al fatto che non c'è questa libertà e autonomia nella scelta delle tariffe e nelle modalità di accesso al mercato del lavoro si tratta di 415.000 occupati molti collaboratori quindi ancora una volta soggetti deboli 41% lavoratori improprio 34% liberi professionisti che in qualche modo diciamo sono monocommittenti quindi in qualche modo di nuovo perdono questa caratteristica dell'autonomia del lavoro una sfida emergente è quella dei lavoratori sulla piattaforma sulle piattaforme digitali un lavoro che si è diffuso tantissimo anche per lavoratori con a bassa qualificazione perché ovviamente la diffusione dei dispositivi digitali e delle diverse forme di connettività in qualche modo aperta a tutti che non richiede particolare expertise ha fatto sì che tutti questi lavoratori potessero effettivamente beneficiare è un fenomeno ancora da studiare anche dal punto di vista statistico le stime che ci abbiamo per quanto riguarda la rilevazione forze di lavoro parliamo di uno 0,3 per cento occupate quindi circa 30.000 individui comunque quota presumibilmente in aumento e con parte di questi è effettivamente un'occupazione a bassa qualifica ma la cosa più importante di questi lavoratori sulle piattaforme che andrà veramente studiata è il fatto che il loro stato occupazionale è poco chiaro alcuni sono dipendenti alcuni autonomi c'è una generalizzata mancanza di tutela da diversi punti di vista che vanno dalla salute ai periodi di più avviso alla possibilità appunto di poter lavorare oppure no e c'è anche questo aspetto molto inquietante dell'algoritmo che governa e gestisce il lavoro che determinano le modalità di assegnazione dei compiti anche su valutazioni automatiche delle prestazioni del lavoratore stesso che potrebbero nascondere anche forme di sfruttamento tecnologico del lavoro stesso e quindi bisognerà tenere diciamo cercare di su questo la statistica si sta sfidando proprio per cercare di capire anche le implicazioni economiche e sociali di lungo periodo ma anche la relazione di questo lavoro sulle piattaforme con quello che è il lavoro sommerso anche per il carattere internazionale dello svolgimento di questa attività chiudo dicendo che purtroppo piove sempre sul bagnato come si dice cioè le caratteristiche di queste tipologie di lavoratori purtroppo si ritrovano essere sempre le stesse parliamo di giovani parliamo di mezzogiorno parliamo di donne parliamo di stranieri parliamo di persone meno istruiti nel caso del lavoro a tempo determinato e il lavoro a tempo parziale involontario e parliamo di livelli retributivi sistematicamente più bassi di uomini e italiani e adulti o persone più istruite sempre nella stessa categoria cioè tempo determinato tempo parziale involontario quindi effettivamente una criticità nella criticità per questi particolari soggetti che ritroviamo grazie Nicoletta mi dispiace sei sei andato un po troppo lunga come si dice sì volevo solo dire che l'ultimo e chiudo veramente che non stiamo parlando solo di persone che vivono con altri lavoratori o percettori di reddito in famiglia ma in molti casi stiamo parlando di famiglie dove l'unico percettore di reddito da lavoro è effettivamente un precario magari a part time involontario grazie mille scusate se sono andata lunga grazie grazie la dottoressa pannuzzi il suo intervento ha mostrato un quadro che non è molto noto se non ai più agli addetti ai lavori no un quadro da un certo punto di vista inquietante che richiama alla mente tutta una serie di determinanti dei cambia del cambiamento del mercato del lavoro e anche delle disuguaglianze la globalizzazione il cambiamento tecnologico l'individualizzazione delle condizioni economiche e sociali che è frutto proprio dell'evoluzione anche della del rapporto di forza fra capitale e il lavoro quindi una società sempre più complessa con una frammentazione delle figure contrattuali e con delle sacche in cui sono i più deboli ad andare a finire e quindi una un quadro che va monitorato va va tenuto in 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 particolare attenzione e e la statistica ufficiale è chiamata a fornire degli elementi per 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 chi appunto si deve produrre delle politiche per gestire una un'epoca di transizione in cui il mercato del lavoro diventa sempre più complesso e e frammentato ehm passiamo ora alla seconda eh relazione quella di Monica Pratesi che ehm della professoressa Monica Pratesi che ci parlerà della povertà educativa. Benvenuti e grazie eh grazie Cristina per avermi dato l'opportunità e nella sede della conferenza di parlare di questa forma di disuguaglianza che eh è importante qui siamo eh diciamo prima dell'attività lavorativa forse nel periodo di formazione di educazione vorrei dire di educazione non di istruzione soltanto. Allora ehm condivido il mio schermo ecco qua e iniziamo dunque eh una delle attività del centro di ricerca intitolato a Camillo da GUM che dirigo e che è un centro interuniversitario Firenze Pisa Siena è quello di quantificare la povertà educativa in Italia. È un tema rilevante è un fenomeno difficile da definire. Cercherò di dirvi cosa già c'è, cosa manca, cosa ha fatto il centro e cosa faremo eh insieme a Istat e alla Onlus Save the Children. Il centro ha già mh individuato delle dimensioni della povertà educativa insieme a Istat, le ha aggregate, ha ottenuto delle cifre locali con una granularità territoriale interessante legata alle zone urbane usando anche una logica fazzi. Ma rimane da eh fare un focus di studio sulle fasi della vita eh non non limitandosi soltanto agli adolescenti ma insistendo anche sui bambini, fare un repertorio ragionato di fonti magari anche con indagini ad hoc, arrivare al disegno di traiettorie educative perché quello che serve sono degli indicatori territoriali che abbiano anche delle componenti longitudinali. Ora eh perché tutto questo? Intanto eh noi eh abbiamo un articolo tre della Costituzione italiana che eh sancisce che ogni cittadino europeo ha diritto di vivere in un luogo in cui vengono rimossi tutti gli ostacoli al suo pieno sviluppo come essere umano. Questo è un principio fondante di grande ispirazione. C'è anche da dire però che eh non c'è niente di più ingiusto con Lorenzo Milani di fare parti uguali tra chi uguale non è. Quindi è necessario conoscere la variabilità territoriale e temporale di questo fenomeno di deprivazione. Al momento attuale servono dei confronti empirici adeguati tra territori, gruppi di popolazione e questo per sostenere le azioni di governo che già ci sono ma che necessitano di dati dettagliati sia nel tempo che nello spazio. Abbiamo già delle evidenze e questo rendano urgente e rilevante il fenomeno che forse non tutti gli alunni sul territorio nazionale hanno le stesse opportunità formative e dei livelli di competenze coerenti. Questo con le linee guida e le indicazioni del ministero dell'istruzione. L'invalsi ci aiuta in questo a capire. Ma eh non basta eh l'emergenza covid e e le competenze digitali che sono state necessarie per arrivare eh ai ragazzi ci hanno fatto capire che va studiato bene il ruolo e la diffusione della tecnologia nell'educazione non solo nell'istruzione e sappiamo già che come tutte le povertà anche la povertà educativa è multidimensionale quindi seguire solo la dimensione scolastica marginalizza la lettura eh del fenomeno lungo un'unica dimensione e che poi ci sono diversi livelli di aggregazione si parte dall'individuo e dalle sue traiettorie nella scuola a livello micro fino alla classe alla scuola al quartiere cioè a dei livelli in cui si effettua un'aggregazione magari per comunità educante e si arriva fino allo stato o a macro regioni quindi micro meso e macro sono livelli che interessano eh nello studio del fenomeno ma tuttora manca una metodologia originale che misuri la povertà educativa nel nostro paese che ci permetta di definire una mappatura a livello regionale ma anche per micro dimensioni territoriali integrando i dati statistici ufficiali che ci sono e anche dati ad hoc raccolti magari anche con i ragazzi e i loro insegnanti anche con le famiglie perché è necessario dare anche una validazione empirica degli indicatori proposti non proporli solo dall'alto ma anche cercare di crearli insieme a chi poi deve leggere usare allora servono degli indicatori multidimensionali che siano basati su metodi statistici che rispettino e valorizzino una natura specifica della povertà educativa che è latente fazzi e multilivello qual è la prospettiva del centro eh da GUM è quella di studiare eh la povertà educativa rispettando la sua natura multidimensionale quindi non solo con riferimento alle dimensioni eh scolastiche ma anche rispettando lo studio delle dimensioni economiche, sociali, ambientali. È un fenomeno eh con prospettiva latente perché può essere considerato latente un costruttore teorico inosservabile eh che è sottostante a una serie di variabili che invece sono manifeste e allora eh è importante anche eh l'idea di abbandonare delle soglie fisse tutte le volte che si parla di povertà di deprivazione ci si immagina che ci sia una soglia al di sotto della quale si è considerati deprivati poveri di quella particolare in quella particolare dimensione di quel particolare attributo e allora queste soglie fisse forse vanno abbandonate per soglie sfocate in maniera tale che si arrivi eh a una definizione di indicatori cosiddetti falsi tenendo conto delle diverse eh dei diversi livelli micro, macro e meso. Allora il centro ha già costruito delle mappe della povertà educativa cercando di fornire delle stime stime locali riferite cioè ai posti dove la gente vive e siamo partiti da quanto l'Istat aveva già fatto con l'indice di povertà educativa riferito ai giovani dai 15 ai 29 anni. Le dimensioni eh usate sono quattro partecipazione, resilienza, standard di vita e capacità di intessere relazioni e l'indagine di riferimento è stata quella eh sugli aspetti della vita quotidiana riferita al duemiladiciassette. Vi sono indicazioni anche sulla deprivazione digitale nelle dimensioni partecipazione e resilienza, nella capacità di interesse, ma insomma ancora qui c'è da fare, poi noi abbiamo avuto dati pre-Covid. Interessante sarà andare a vedere cosa è capitato negli ultimi anni. E anche il grado di deterioramento dell'ambiente circostante è incluso nello standard di vita. Facciamo riferimento qui pensiamo alle situazioni di degrado di certe nostre periferie, alla presenza, all'uso delle aree verdi in quelle, alla pratica dello sport, ma anche qui c'è da fare un focus più dettagliato per capire bene l'ottica eh green che che vogliamo sottendere a allo studio della dimensione, delle dimensioni di questo fenomeno. Date le dimensioni abbiamo pensato di aggregarle seguendo eh l'indice di maziotta pareto che è usato da Istat anche per le aggregazioni degli indicatori BES e di eh vederle a una granularità territoriale che fosse di interesse, che incrociasse anche ehm nella classificazione eh gruppi eh riferiti alle aree periferiche, alle zone urbane e extraurbane. Nell'aggregare le dimensioni eh ci sono dei problemi che emergano, per esempio la sostituibilità tra queste dimensioni che non è eh tenuta in considerazione nell'indice di maziotta pareto e anche forse il legame latente con reddito e condizioni economiche di queste di queste dimensioni. È proprio necessario fare uno studio empirico sistematico su dati ufficiali su questi aspetti e anche per quello che riguarda la granularità territoriale eh nel caso in cui le stime dirette abbiano una dimensione campionaria eh siano effettuate su una dimensione campionaria ridotta per questi nuovi domini urbani, extraurbani, zone periferiche e non abbiamo un problema di affidabilità delle stime e quindi c'è la necessità di fare riferimento ad una metodologia più sofisticata, già comune a molti eh istituti nazionali di statistica e anche in Istat che è nota come stima per piccole aree. In questo caso però eh si deve decidere se aggregare prima gli se disaggregare gli indicatori unidimensionali dimensione per dimensione oppure se prima fare l'aggregazione e poi spacchettare per dominio non previsto l'aggregazione già fatta. Anche qui è necessario fare un una serie di simulazioni e sviluppare la metodologia. Comunque quel che abbiamo fatto eh qui lo vedete per tre regioni della nostra Italia. In bianco è rappresentata la media nazionale. In verde le aree che hanno valori di povertà educativa inferiori alla media nazionale, in rosso le aree con quelli superiori. Questa non è una rappresentazione che ha pretesa di misurare i livelli, è solo uno sguardo alla variabilità territoriale e come vedete le sorprese ci sono. Ci si immagina che la Lombardia sia tutta verde e non lo è, come la Sicilia tutta rossa o arancione e non lo è. Quindi è chiaro che la rappresentazione territoriale a livello fine che intercetta le aree urbane e le aree extraurbane nelle singole regioni è importante e che quindi ci si deve muovere per avere una rappresentazione del fenomeno che non sia solo macro ma anche eh meso qui meso geografico eh ma eh probabilmente altre disaggregazioni ci potrebbero dire qualcosa di diverso e di eh e di più. Non contenti dell'apprezzamento sulla variabilità territoriale eh però abbiamo voluto provare un indice fazzi, abbiamo fatto prima un indice aggregato, cioè un indice aggregato anche e quattro indici, uno per ciascuna dimensione, sempre sugli stessi dati che erano quelli che avevamo. Ciascun indicatore va da zero a uno, quindi qui si misura l'intensità della povertà educativa, uno in caso di massima povertà, di massimo grado, zero nel caso opposto. Si vede cosa qui, sempre con la classificazione del curva? Che le aree rosse eh quelle con il valore più alto dell'indicatore sono in prevalenza al meridione, però non ci sono degli uno mh se vedete nel grafico, ma non solo al meridione, così come ci sono intensità minore di povertà educativa anche al sud. Si è basato quest'analisi su cinquantatre indicatori individuali, tutti quelli che potevamo avere da dalla fonte a VQ, aspetti vita quotidiana e in questo modo per ogni individuo si ha un certo grado di povertà educativa, proprio perché riteniamo che in questa povertà, in questa deprivazione come nelle nelle altre, magari di natura economica, monetaria, che siamo più abituati a a misurare, la povertà sia effettivamente una questione di grado. Allora tutto questo è quello che noi consideriamo eh importante, che ci ha fatto suonare il campanello d'allarme, che è eh importante approfondire. E eh per questo eh si è costituito un protocollo di ricerca per un progetto congiunto sul tema della povertà educativa minorile in Italia, tra Istat e centro da GUM con il supporto e la partecipazione della ONLUS Save the Children. Eh la ONLUS ha vorrei dire per prima lanciato il tema eh qualche anno fa nel 2016 in Italia e vogliamo arrivare a uno studio per fasi della vita, non solo per gli adolescenti, quindici, ventinove, i giovani, insomma, lì si mescola anche l'esperienza lavorativa per alcuni. Ma ehm vorremmo vedere anche eh di elaborare i dati per i bambini. Ehm questo richiederà un repertorio di fonti, una collaborazione molto stretta con i balsi, una raccolta dei dati ad hoc per validare gli indicatori, come si diceva prima, lo studio della povertà educativa digitale, sul quale Save ha già eh prodotto un rapporto molto interessante per arrivare a disegnare delle traiettorie educative perché eh in periodo di learning crisis eh e di definizione di learning poverty usando termini che 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 sono del ehm del linguaggio della World Bank su questo fenomeno eh per disegnare queste traiettorie eh abbiamo bisogno ehm di una componente longitudinale, che in invalsi per quanto ne so ha eh già provveduto a inserire e mh quindi indicatori territoriali con componenti longitudinali saranno eh un utile risultato per documentare anche questo tipo di disuguaglianza che sta alla base, alla radice di molte disuguaglianze successive. Eh non sta a me sottolineare il fatto che eh non avere eh uguali opportunità e la possibilità di fiorire come essere umano nei primi anni di vita crea delle eredità che poi difficilmente si compensano negli anni successivi e che la componente eh digitale molto complessa da studiare non è una componente che in genera povertà educativa e deprivazione soltanto nelle classi meno abbienti. Eh non confondiamo eh questi aspetti non è assolutamente detto che eh le condizioni economiche rendano eh condizioni economiche vantaggiose in automatico rendano eh capaci di avere una formazione, una educazione che libera tutte le proprie potenzialità. Qui eh vi ho riportato qualche elemento eh usato per preparare la la presentazione e per descrivere i risultati e e vi ringrazio molto per l'attenzione che mi avete dedicato. Molte grazie alla professoressa Pratesi per questo mh questo quadro su un fenomeno difficile da definire che quindi richieve anche un percorso metodologico difficile. Scusate è saltato il microfono. Dicevo la professoressa ci ricordava come si tratti di un fenomeno eh di natura multidimensionale latente fasi multilivello e quindi al di là di questo quello che già sappiamo eh sulla sulla eh difficoltà delle delle dei figli, delle famiglie meno abbienti nel appunto valorizzare le proprie abilità, di sviluppare le proprie eh capacità, i propri talenti. Sappiamo anche che ci sono altri meccanismi che eh possono indurre in eh condizioni di povertà educativa e eh è necessario appunto un'analisi attenta e che tenga conto della della multidimensionalità appunto di questo fenomeno per poter eh far emergere gli elementi utili al agli alle al utili per disegnare le le politiche e sostenere le le azioni di governo anche in questo settore. Eh grazie di nuovo alla professoressa e invito a questo punto invece Salvatore Strozza, il professor Salvatore Strozza eh a presentare la sua relazione su cittadinanza e disuguaglianze, le sfide della misurazione in una società complessa. Grazie Cristina, grazie dottoressa eh Freguia eh per questo invito prima di tutto ad affrontare un tema eh che diventa sempre più importante. Eh ben trovati a tutti, io sono Salvatore Strozza, sono professore ordinario di demografia presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Napoli Federico II e eh in realtà vi presento un intervento che è in collaborazione anche con alcuni ricercatori dell'Istat Marco Battaglini, Cinzia Conti, Gianni Corsetti ed Enrico Tucci. Eh metto in condivisione la presentazione il titolo lo abbiamo già eh già detto quindi possiamo procedere in realtà non voglio soffermarmi sull'indice vi dico solo che molto è riferito al primo punto e l'obiettivo del contributo è mostrare come l'Italia sia ormai da tempo un paese di immigrazione tanto che le diverse componenti della popolazione straniera o immigrata o di origine straniera immigrata hanno assunto dimensioni tali che richiedono spesso un'attenta definizione degli aggregati di interesse e l'adozione di criteri complessi per la loro determinazione per l'individuazione di tali aggregati. Si tratta di un aspetto eh direi propedeutico eh per l'analisi e il monitoraggio delle disuguaglianze legate alle migrazioni internazionali e alla cittadinanza. A tal fine viene mostrata in questa slide facendo ricorso tra l'altro ad un aggiornamento dei microdati del censimento del duemila undici con quelli delle rilevazioni rilevazioni correnti viene mostrata la situazione al duemilaventi in cui eh abbiamo la popolazione italiana non sono i dati ufficiali perché questo è il frutto di un aggiornamento dei dati micro ma sono molto simili ai dati ufficiali in cui circa sessanta milioni di cittadini residenti di residenti nel paese sono distinti per paese di cittadinanza attuale e per gli italiani se sono cittadini dalla nascita e ancora per paese di nascita quindi combinando tre criteri si notano gli ammontari soliti oltre cinque milioni di stranieri e spesso nelle slide seguenti parlerò proprio della dicotomia italiani stranieri oltre sei milioni di nati all'estero che spesso nella letteratura internazionale sono indicati come immigrati ma in genere ad esempio questa è una sottolineatura in genere non si pone grande attenzione per esempio agli italiani per acquisizione che è un collettivo che ormai lo potete vedere anche dal grafico no assunto una consistenza significativa oltre un milione e mezzo di persone più di quanti erano gli stranieri censiti al 2001 vent'anni fa quindi un collettivo importante con la sua articolazione interna tra nati in Italia e nati all'estero spesso invece si lavora sui cinque milioni di persone dicevo di cittadinanza straniera al più articolati tra i nati in Italia e nati all'estero in particolare quando l'attenzione per esempio sul sotto insieme degli alunni quindi degli studenti che frequentano le scuole italiane e questo senza introdurre altri collettivi che avrebbero a loro volta un certo interesse per esempio i figli di coppie miste che costituiscono ormai un collettivo significativo e però da questi dati non sono individuabili dovremmo utilizzare criteri che fanno riferimento alla cittadinanza o al peso di nascita dei genitori perché sono italiani dalla nascita e ancora un collettivo invece che non è proprio previsto e non lo consideriamo nella gran parte di ciò che vedrete in seguito è quello invece dei non residenti regolari o irregolari circa novecentomila persone secondo le stime per esempio della fondazione ISMU a questa data inizio 2020 che è un collettivo ulteriore tra l'altro con diversi elementi di vulnerabilità e quindi meritevole di attenzione a sua volta ma più difficile anche da rilevare ma anche se restiamo semplicemente sul collettivo degli stranieri senza entrare nel dettaglio di questa tabella si può notare come ci sia un'articolazione forte ad esempio per tra nati in Italia e nati all'estero ma questo l'avevamo ancora visto e tra i nati all'estero in base alla durata della residenza guardate come per esempio oltre un milione di persone sono arrivate da meno di cinque anni ma una cifra equivalente corrisponde alle persone che ci sono da più di 15 anni lungo residenti addirittura con le condizioni anche per i non cittadini dell'Unione Europea di accedere alla cittadinanza quindi insomma questo è un altro elemento importante di differenziazione senza l'elemento classico quindi stiamo parlando di differenze e non di disuguaglianze ma è chiaro che questo ci dà l'idea di quanto sia eterogeneo e vario il mondo a cui ora stiamo facendo riferimento a quest'universo con una molteplicità di provenienze già semplicemente usando l'area la macro area geografica di cittadinanza è possibile apprezzare tutto questo e per macro area di provenienza cambia anche la distribuzione interna per durata della residenza e questo è un aspetto non trascurabile nei processi di integrazione ancora entriamo più in dettaglio e se facciamo riferimento al singolo paese di cittadinanza degli stranieri vedete qual è la distribuzione di questi 5 milioni di residenti servono 6 nazionalità per raggiungere il 50% ne servono 16 per arrivare ai tre quarti del fenomeno segno della grande eterogeneità interna se li andiamo a leggere come dire anche nell'altro collettivo il milione e mezzo di nuovi cittadini vedete è chiaro in questo caso la cittadinanza è la cittadinanza di origine o potrebbe essere l'altra cittadinanza perché molti hanno la doppia cittadinanza e potete vedere come la distribuzione anche questa è molto varia ma è differente e per esempio per alcune collettività come quella degli albanesi e dei marocchini che sono la seconda e la terza più importante in Italia in realtà vedete come la quota di nuovi cittadini è elevata più o meno 50 nuovi cittadini ogni 100 stranieri cosa che non succede per i romeni che sono comunitari dove abbiamo meno di 10 nuovi cittadini ogni 100 cittadini romeni e così via con una situazione molto articolata e questa situazione non è che conti poco per una ragione molto semplice limitare l'attenzione ai soli stranieri per esempio nell'analisi dei processi di stabilizzazione e integrazione o nelle analisi sulla diseguaglianza può determinare, può fornire un'immagine distorta delle condizioni dei diversi gruppi nazionali poiché quelli che hanno una più elevata quota di nuovi cittadini si caratterizzano per il prevalere tra gli stranieri dei nuovi arrivati mentre i gruppi che accedono meno alla cittadinanza italiana hanno tra gli stranieri quote più elevate di lungo residenti in genere meglio inseriti a parità di altre condizioni meglio inseriti nel contesto di accoglimento quindi non è un aspetto assolutamente secondario se guardiamo il collettivo dei nuovi cittadini vediamo che appunto la graduatoria è differente i romeni sono solo al terzo posto ma nelle prime posizioni compaiono anche i brasiliani e argentini per sottolineare come c'è anche qualcosa che è legato al trascorso emigratorio italiano e quindi quelle sono probabilmente in una parte importante acquisizione della cittadinanza per ius sanguinis per capirci e così come insomma la graduatoria prevede anche diversi paesi nei primi posti del per esempio dell'Europa occidentale ma ancora permane sia nel gruppo degli stranieri che in quello degli acquisiti una forte differenziazione per composizione di genere e in alcune collettività la quota delle donne è minoritaria in altre nettamente maggioritarie questa cosa si conferma anche tra gli acquisiti anche se le differenze sono meno marcate questo probabilmente perché c'è anche una componente di minori dove c'è sostanzialmente un equilibrio di genere se guardiamo alla struttura per età questo ci dà chiaramente l'idea di come sia importante tenerne conto e qualunque analisi poi si vada a fare proprio perché vedete come gli stranieri hanno una struttura particolare nettamente differente da quella degli italiani dalla nascita per esempio e in basso a destra trovate le tre piramidi distinte in realtà nella prima piramide più grande trovate sovrapposte le strutture degli stranieri nati in Italia lì si riproduce veramente una forma piramidale con un vertice che non supera i trent'anni ovviamente è un po' il frutto della nostra storia più o meno di 40-50 anni di immigrazione non di più con una forte immigrazione nel primo decennio del ventunesimo secolo e quindi i figli degli immigrati insomma di quelli che sono stranieri tra l'altro per essere precisi la componente degli stranieri nati all'estero e come poi si sovrappone all'esterno la componente dei nuovi cittadini in cui c'è una quota importante di giovani ma c'è una forte concentrazione nelle età centrali e anche nelle età un pochino più avanzate insomma tre strutture completamente diverse di cui non si può non tener conto nelle analisi ma allora nel proporvi qualche analisi io in realtà salto alcune delle slide che ho pensato di presentare sono per ragioni di tempo e quindi torniamo un po' a un approccio che è quello della dicotomia italiani-stranieri è evidente da questi due grafici a confronto come la dinamica demografica nelle sue componenti nella componente naturale nella componente migratoria e residuale e ancora proprio il tasso di incremento che vedete qui riportato in azzurro tratteggiato sia completamente diverso per il collettivo degli italiani e degli stranieri in sostanza sembrano due rappresentazioni speculari in cui l'unica componente positiva della dinamica degli italiani è data dalle acquisizioni di cittadinanza esattamente il contrario nel caso degli stranieri se entriamo nel dettaglio della componente naturale potete vedere le differenze che immaginate la natalità degli stranieri è in diminuzione ma è nettamente più alta di quella degli italiani ma questo è dovuto sia alla maggiore propensione riproduttiva degli stranieri per quanto in calo sia alla struttura per età più favorevole allo stesso tempo proprio nella struttura per età particolarmente favorevole la mortalità degli stranieri è molto il tasso generico di mortalità è molto basso contrapposto a quello degli italiani si nota anche l'incremento proprio nell'anno della pandemia del tasso generico di mortalità degli italiani si percepisce meno quello del tasso generico di mortalità degli stranieri anche se in termini relativi l'aumento dei decessi rispetto all'anno prima nel caso degli stranieri è più forte che nel caso degli italiani allora concentriamoci un attimo su questi eh su questo aspetto e quindi il periodo della pandemia io salterei eh queste rappresentazioni mi fermerei proprio sulla tema della eh mortalità nelle analisi ecco vediamo eh un attimino come sulla base dei dati individuali del registro base della popolazione ad inizio duemiladiciannove duemilaventi e duemilaventuno e dei eh decessi dell'archivio giornaliero di mortalità che fa riferimento alla popolazione residente è stato possibile calcolare dei tassi di mortalità standardizzati per età relativi alla popolazione di trentacinque anni e più distinta come potete vedere tra gli italiani nati in Italia nativi o gli italiani immigrati cioè nati all'estero e ancora gli stranieri in tre gruppi dei paesi a sviluppo avanzato dei paesi a forte pressione migratoria appartenenti all'UE diciamo sostanzialmente dell'Europa dell'est o ancora non eh non UE beh eh in questo caso sembra confermarsi la eh minore mortalità della popolazione straniera probabilmente dovuta all'effetto migrante sano che però nel tempo dovrebbe in qualche modo sparire anche per effetto delle peggiori condizioni di vita e di lavoro degli stranieri ma probabilmente c'è dentro anche un secondo effetto il cosiddetto effetto salmone il salmon bias che eh fa sì che eh in realtà sia migrare da una parte sono eh un gruppo selezionato di persone con condizioni di salute migliore no rispetto sia alla popolazione di origine che di destinazione effetto migrante sano l'effetto salmone in realtà ci dice che poi quando ci si ammala se soprattutto se si ammala gravemente si ritorna nel paese d'origine allora sembra che esserci un attimino una situazione di questo genere visto sia che eh visto che sia per gli uomini che per le donne in realtà osserviamo livelli di eh mortalità più bassi con il picco in corrispondenza della prima crisi pandemica mesi di marzo e aprile del duemilaventi poi c'è la fase di transizione c'è la seconda e la terza crisi pandemica come dire i picchi si osservano per tutti ma i valori rimangono più bassi quello che si può segnalare è in particolare l'incremento più forte eh nella seconda crisi pandemica per quanto riguarda eh gli stranieri provenienti dai paesi eh eh forte pressione migratoria non UE e lo vediamo sia per gli uomini che per le donne ma in modo più marcato per gli uomini lo vediamo sia in termini di variazione assoluta ancora di più in termini di variazione relativa ecco in realtà facevamo riferimento al ai residenti abbiamo parlato anche che ci può essere un bias che eh come dire ci porta una sottostima in parte della mortalità del degli stranieri dovuto appunto all'effetto salmone ma soprattutto abbiamo considerato solo i residenti e ci sono invece c'è una parte della popolazione straniera quel famoso milione quel novecentomila un milione di persone che in realtà non sono residenti che in genere sono in condizioni di vita molto più difficili insomma più frequentemente in situazioni eh abbastanza problematiche i dati dell'istituto superiore tra l'altro di sanità eh sulle eh diagnosi di eh infezione da SARS-CoV-2 in realtà eh almeno per quanto riguarda la prima ondata segnalano un ritardo nella diagnosi nel caso eh un ritardo di due settimane nel caso degli stranieri addirittura di quattro nel caso degli stranieri che provengono dai paesi poveri e all'accertamento della malattia quando eh come dire eh lo stadio è più avanzato i sintomi sono più gravi determina anche una maggiore ospedalizzazione e eh anche il più frequente ricorso alla terapia intensiva questo soprattutto per gli immigrati dai paesi poveri e questo ritardo può essere dovuto alle barriere amministrative legali culturali sociali no eh all'accesso per esempio alle strutture sanitarie può dipendere dalle condizioni di vita di lavoro può dipendere anche dal timore di eh come dire dover interrompere l'attività lavorativa a seguito del l'isolamento e la quarantena e quindi legato anche alle condizioni per esempio di lavoro eh delle persone l'approccio che si è cercato di proporre un approccio una strategia eh inclusiva alla vaccinazione in particolare tenendo conto eh non tenendo conto cioè indipendentemente dalle condizioni giuridiche eh di presenza sul territorio ma d'altronde la crisi ha eh giocato un ruolo importante anche sulla situazione eh scusate anche sulla situazione nel mercato del lavoro io non mi soffermo per ragioni di tempo in salvatore ti prego di avviarti alla conclusione sì allora in realtà eh è aumentata la povertà degli stranieri e già sappiamo che per esempio è aumentata la povertà sono più difficili le condizioni economiche quelle giocano anche per esempio sull'inserimento scolastico dei figli i ragazzi eh di cittadinanza straniera hanno una maggiore dispersione scolastica un minore rendimento con votazioni più basse maggiori in successo e questo è la situazione pre covid ok ancora c'è un ritardo negli studi che in una parte importante è dovuto a eh una collocazione in classi inferiori rispetto all'età degli studenti al momento del primo ingresso a scuola e quindi questo è anche legato un po' ai limiti del nostro sistema scolastico c'è una segregazione orizzontale nel senso che gli studenti stranieri quando arrivano alla scuola superiore eh optano spesso per o sono spinti ad optare eh percorsi meno impegnativi sono iscritti soprattutto gli istituti tecnici e soprattutto quelli nati all'estero hanno una quota davvero ampia di eh studenti negli istituti professionali quindi insomma sono tutti elementi che segnalano la fragilità di un collettivo importante in un paese come il nostro che eh tra l'altro ha estremamente se la possiamo mettere così in modo asettico ha estremamente bisogno delle eh giovani generazioni no? E di una valorizzazione del loro capitale e allora per esempio e io vado verso la conclusione Cristina ci si può chiedere il lockdown e la didattica a distanza potrebbero aver accentuato lo svantaggio degli alunni stranieri per esempio a causa della maggiore frequenza di situazioni ambientali sfavorevoli penso al sovrappollamento il dover dividere quando va bene una stanza tra più persone no durante gli orari della didattica e ancora la indisponibilità eh di strumenti tecnologici adeguati al tipo di didattica erogata e non solo di strumenti ma poi anche di capacità come abbiamo sentito nella eh relazione precedente e allora chiudo ci sarebbe molto da dire per questo ci sono vari puntini su eh i diversi approfondimenti che sarebbe necessario fare e tra l'altro le opzioni e le opportunità che derivano dai dati disponibili ma io mi soffermo sull'ultimo argomento per dire qualcosa di più lo sapremo perché l'Istat eh proprio nel duemilaventuno ha svolto di nuovo l'indagine nelle scuole e questa è un'indagine importante per me eh come dire la legherei quasi all'indagine precedente svolta nell'anno scolastico duemilaquattordici duemilaquindici su circa settantamila alunni delle scuole secondarie eh italiani e stranieri quindi può essere una eh come dire un'indagine preziosa per saperne di più sugli aspetti che citavo poche anzi ma eh voglio ribadire invece l'importanza a chiusura l'importanza di poter adottare criteri complessi di identificazione dei collettivi di interesse in modo da poter seguire anche categorie altrimenti non identificabili come per esempio i nuovi cittadini che spariscono nel magma indefinito degli italiani monitorando quindi condizioni e propensioni allo scopo di adottare le misure più edone per eh come dire eh esaminare le disuguaglianze per far morire la piena integrazione o inclusione degli immigrati e dei loro discendenti. Grazie per l'attenzione. Molte grazie Salvatore per la interessante relazione. Avevamo detto che avremmo parlato del di dimensioni della disuguaglianza quasi che prenderle una alla volta fosse più semplice e invece quello che emerge dalle vostre relazioni è sempre il tema della complessità dell'eterogeneità e della appunto difficoltà di rappresentare con modellizzazioni semplici una realtà che appunto è molto complessa e e quindi che richiede un percorso e degli strumenti metodologici adeguati e e quindi adesso ci avviamo con questa questa riflessione sulla complessità ad ascoltare la la professoressa Saraceno e la sua relazione sulle disuguaglianze inaccettabili eh o no scusa eh insostenibili cioè che ci avevo in mente le inaccettabili eh ma insomma se le disuguaglianze sono insostenibili sappiamo le disuguaglianze esistono in tutte le epoche storiche in tutte le le società ma ce ne sono alcune che possono essere considerate fisiologiche e tutte le altre invece e adesso ce lo recanterà la professoressa Saraceno prego. Grazie grazie Cristina grazie di avermi invitato mi sento un po' in difficoltà perché a differenza delle relazioni precedenti io che non sono una statistica e neppure una demografa non porto nessun dato nuovo eh ma eh porto dei dati e delle riflessioni per costringerci a pensare appunto non solo a quelle alle dimensioni della disuguaglianza che spesso non sono messe a fuoco ma anche ai soggetti della disuguaglianza che spesso vengono un pochino lasciati ai margini. Già Monica Pratesi ha parlato eh dei degli adolescenti ha parlato della povertà educativa e io un po' provocatoriamente voglio tornare un po' più prima cioè la disuguaglianza inizia da piccoli ed è sperimentata da piccola e la e la eh la povertà educativa è uno degli esiti lungo periodo di questa. Adesso condivido eh lo schermo spero di riuscire. Eccoci qua. Spero che vada bene. Allora che cosa intendo per disuguaglianze insostenibili perché questo non va? in che senso le disuguaglianze insostenibili eh avvio la presentazione ma non è già avviata? Direte la mia presentazione? Sì Chiara devi però no devi avviare cioè quella specie di 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 piccolo faro in basso a destra. Io non vedo nulla in basso a destra e quindi questo è il mio problema. Eh non vedo nulla vedo soltanto la mia depositiva. Sì sì lì così a sinistra lì. Quello. Grazie. No non lo so sono in armi chiedo scusa non si trovo di nuovo a sinistra qui ho schifo ecco non si era attivata chiedo scusa. Perfetto. Eh perdonerete la mia età eh sono poco digitale evidentemente la povertà digitale non riguarda solo i poveri economici. Magari avere la sua più età lascia perdere. Comunque quando si può parlare di disuguaglianze insostenibili eh perché perché insostenibili? Sono insostenibili quando dal punto di vista etico e della giustizia cioè quando non hanno nessun fondamento di nessun tipo salvo l'origine eh familiare o etnica o di genere eccetera ma anche quando e qui io prendo eh l'osservazione di un grande sociologo svedese che è Goran Ferbon che dice le disuguaglianze che ledono un po' alla Martia Sen fondamentalmente eh le capacità e la dignità delle persone cioè quelle che effettivamente poi vincono la libertà di essere e di fare. Queste sono le disuguaglianze insostenibili che possono riguardare origine sociale possono anche riguardare alcuni dei fenomeni di cui parlava prima anche Nicoletta Pannuzzi quando le disuguaglianze sono così forti e le deprivazioni sono così forti che poi uno vive soltanto nella precarietà. Allora tra queste disuguaglianze mi sembra che quelle più inassettabili in in assoluto sono quelle che si presentano già nell'infanzia perché come ricordava prima anche Monica Prattese non solo sono moralmente le più ingiuste non è che si possa dire che è colpa loro dei bambini di essere stati portati dalla cicogna nella famiglia sbagliata ecco non è colpa loro posto che sia colpa di qualcuno di essere deprivato ma perché configurano più oltre che colpa neanche ne è merito cioè si nasce così ma perché configurano più esplicitamente dei destini cristallizzandoci cioè le disuguaglianze positive e negative sperimentate alla nascita nel processo di crescita sono quelle che si cristallizzano più fortemente che sono meno recuperabili meno modificabili e quindi diventano più facilmente dei destini per cui le disuguaglianze socialmente strutturate di cui abbiamo parlato in questi in questa in questa sessione iniziano e si consolidano da piccoli quando diciamo che in certi lavori finiscono poi quelli che hanno determinate quelle caratteristiche quelli che hanno quelle determinate caratteristiche spesso hanno sviluppato quelle caratteristiche a motivo del modo in cui sono stati collocati nel mondo qui mostro una cosa probabilmente nota a tutti voi che però colpisce molto è un rapporto Ox di qualche anno fa che parla di sticky floors sticky ovvero che mostra appunto l'origine di nascita cioè che se nasci in alto difficilmente vai in basso e se nasci in basso difficilmente vai in alto questi due grafici mostrano le chance di grafico in più in alto le chance di raggiungere un livello di educazione terziario se i propri genitori hanno soltanto al massimo un'educazione secondaria e viceversa di raggiungere una educazione appunto terziaria il contrario se i genitori invece hanno un'educazione superiore terziaria dove si vede che soprattutto il soffitto alto è molto sticky cioè molto difficile andare in basso si può essere anche stupidi però è anche difficile nel senso che chi ha più le famiglie i genitori con più risorse fanno di più di tutto per compensare gli eventuali deficit o mancanze o di una dei propri figli viceversa i genitori con poche risorse non riescono sempre non hanno le risorse sufficienti per valorizzare le competenze le capacità e le vocazioni dei propri figli nonostante spesso ce la mettano tutta di una un consistente corpo corpo di ricerche no cosa è successo qui sono tornato a si mostra che lo stato socio economico dei genitori incide sia sulla salute sia sulle chance di vita dei bambini si dice è importantissimo che i primi mille giorni sono importanti detto così sembra una cosa un po' troppo predittiva che non vuol dire che non si possa fare niente dopo anzi è molto importante fare anche qualche cosa dopo per compensare eventualmente i deficit dei primi mille giorni però i primi mille giorni sono molto importanti i mille giorni includono anche la gravidanza l'impatto è multidimensionale che va dal peso alla nascita alla mortalità infantile cioè alla salute nel corso della vita sempre in quel rapporto oxe ci sono dei dati abbastanza impressionanti sulle chance di avere una cattiva salute legati alla salute dei genitori allo sviluppo cognitivo come diceva prima monica pratesi e la fiducia anche nelle proprie capacità un'indagine uno studio dell'oxe sulla base dell'ultimo d'agine pisa sulla capacità di lettura connesse alle competenze digitali tra i tanti risultati ne ha rilevato uno che mi ha colpito molto perché mostrava come i ragazzi in questo caso erano quindicenne gli adolescenti che erano stati esposti a un esercizio che riguardava le competenze digitali che erano anche riusciti però rivelavano di averlo trovato più difficile soprattutto se erano negli strati economici più bassi cioè i ragazzi che vivono in condizioni più agiate sono anche più sicuri di sé quindi a parità di performance quelli meno agiati hanno anche meno fiducia nelle proprie capacità dichiarano di avere più difficoltà e l'impatto delle disuguaglianze infatti è particolarmente negativo negli strati più bassi perché vincola appunto la possibilità di sviluppare appieno le proprie capacità ma anche la fiducia in se stessa la povertà educativa di cui si è già parlato e di cui quindi io non parlerò è un esito di questa grave disuguaglianza però la povertà educativa non solo non riguarda solo l'istruzione ma riguarda più complessivamente anche l'equilibrio emotivo, la capacità relazionale e così via. Oltre alla dimensione economica contano le disuguaglianze di riconoscimento in base a qualche appartenenza categoriale se tu appartieni a quella categoria già ti attribuiscono competenze o mancanze di competenze quindi questo può portare una precoce in missione, in percorsi di sviluppo differenziati in base all'appartenenza di gruppo, l'appartenenza di sesso è un caso esemplare di questo, sei una femmina e ti faccio in strado in un percorso di apprendimento, di aspettative sociali strutturate, diverso da quella che se tu fossi un maschio. Nelle nostre società questo avviene un po' meno che in società più rigidamente disuguali quasi al genere ma succede ancora, lo vediamo ad esempio sul fatto che in Italia comparativamente poche ragazze accedono ai corsi STEM perché non sono adatte alle materie scientifiche, non avviene così negli altri paesi, vuol dire che in Italia questo indirizzamento precoce sia c'è sia in famiglia che a volte dentro la scuola, se una bambina non piace la matematica in fondo si dice non è così importante, farà la maestra piuttosto che farà un'altra cosa, non è così importante, è come se un bambino invece lo dicesse un suo qualità non è maschio. Quindi molto spesso quelle che sono, che io chiamo disuguaglianze insostenibili hanno anche a che fare con quelle che si chiamano disuguaglianze di tipo orizzontale, cioè il fatto di appartenere a determinati gruppi in base l'appartenenza di sesso, religione, etnia o vatte la pesca. Non sono solo queste ma sono molto spesso queste. Abbiamo qualche dato sulle disuguaglianze tra minorenni in Italia in prospettiva comparata. Qui sono dati o Ocse o Eurostat. In questo caso sono la percentuale di bambini pre-pandemia che vivono con meno del 50% del reddito equivalente familiare nelle ultime disponibili. Vediamo che l'Italia è collocata più verso la sinistra, mia, non destra probabilmente per chi guarda, ma comunque verso i paesi in cui è più alta la percentuale di minorenni in condizioni svantaggiate. Ricordo che l'Italia è uno dei paesi in cui il tasso di povertà sia relativo ma soprattutto assoluto dei minorenni è più alto di quello dei maggiorenni e più alto di quello della media della popolazione ed è anche più alto di quello degli anziani che almeno fino a metà degli anni 90 invece erano il gruppo d'età che aveva la percentuale più alta di poveri. Prima si è parlato a proposito di stranieri di vivere in condizioni di affollamento domestico. L'Italia non è dei peggio però è tra quelli in cui il percentuale di minorenni che vive in condizioni di affollamento è molto alta ed è emerso anche durante la pandemia questo problema. Non sono soltanto i figli di migrante, di stranieri che condividono almeno nel caso italiano gli stranieri condividono le condizioni degli strati economicamente più svantaggiati italiani. Quindi c'è una concentrazione degli stranieri tra questi strati quindi non stupisce che ci sia questo tasso di affollamento tra gli stranieri però vale anche per molti italiani dalla nascita per riprendere una definizione precedente che anche che poi ha delle conseguenze sulla salute non solo sul poter fare la didattica a distanza ma sul senso di privatezza, sulla possibilità di avere appunto definire un proprio spazio quindi anche sul processo di individualizzazione verrebbe da dire. Questo direi colpisce da questo punto di vista l'Italia non è messa malissimo e la percentuale di minorenni fino ai 15 anni che è deprivata dal punto di vista alimentare. Per fortuna non siamo guardati il caso della Grecia è drammatico sempre nel 2017 in cui però la Grecia è in una situazione molto molto pesante. Allora come dicevo prima l'Italia è tra i paesi a più alto tasso di povertà minorile lo vediamo qui e questa è povertà relativa ma vale anche per la povertà assoluta e c'è un rapporto stretto tra povertà minorile e alcune condizioni familiari. Questo grafico mostra il nesso con il livello di istruzione dei genitori che è spesso legato anche a livello economico non così linearmente ma comunque è legato molto a livello economico e appunto il caso italiano non è dei peggiori cioè non è dei più espliciti ma lo è abbastanza legato appunto alle condizioni all'essere straniero o meno e qui l'Italia è tra i paesi in cui il dato è più forte. Qui c'è da dire che le ricerche comparate su sulle caratteristiche degli stranieri nei diversi paesi in particolare dei migranti mostrano come in Italia arrivino cioè le caratteristiche della popolazione straniera siano mediamente meno qualificate della popolazione adulta dal punto di vista professionale eccetera che in altri paesi cioè noi attiriamo una popolazione con non con alte qualifiche. Chi ha alte qualifiche forse preferisce andare in altri paesi che sono più accoglienti e più e che riconoscono meglio le qualifiche degli stranieri. È importante questo dato del collegamento della povertà con l'origine della cittadinanza è importante anche dal punto di vista delle politiche qui lo dico con una certa polemica faccio notare che nonostante questo elevato rischio di povertà sia relativa che assoluta tra gli stranieri sto parlando degli stranieri residenti legalmente nel nostro paese in Italia le politiche che sono messe in campo penso al reddito di cittadinanza invece escludono buona parte degli stranieri e quindi dei bambini stranieri perché il requisito uno dei requisiti per accedere al reddito di cittadinanza e sono almeno dieci anni di residenza legale nel nostro paese. Questo vuol dire che molti minorenni stranieri in Italia non hanno accesso al sostegno al reddito e ad altre cose. In Italia oltre alle caratteristiche ho detto condizioni socio-economiche, istruzione dei genitori, origine di cittadinanza dei genitori e della famiglia, conta moltissimo anche la collocazione territoriale. Conta non soltanto perché nel mezzogiorno in particolare ma penso anche ad altre zone periferiche i tassi di povertà sono più alti quindi c'è una maggiore concentrazione di povertà. Quindi nascere nel mezzogiorno espone un rischio di crescere in povertà molto più alto che nascere in altri posti d'Italia ma anche nell'accesso alle risorse pubbliche. Quindi non solo c'è più povertà ma anche quindi i bambini nel mezzogiorno anche a parità di condizioni socio-economiche delle famiglie sono esposti a condizioni di disuguaglianza negativa, cioè rispetto ai loro coetanei che vivono in altri paesi. Hanno meno accesso a risorse a scuole tempo pieno, ad asilo nido, addirittura se vivono nel mezzogiorno nelle stesse chance di sopravvivenza alle nascite. una indagine, una ricerca fatta da un pediatra, a me, il professore Ernestario De Curtis ha mostrato che nascere nel mezzogiorno produce un 50% in più di possibilità di morire nel primo anno di vita che non nascere nel nord. È impressionante, in Italia, questo è un dato, in un paese come l'Italia dove il tasso di mortalità infantile è mediamente basso. però, ripeto, oltre al fatto che ci sono meno chance di sopravvivere, ci sono anche meno chance di frequentare un nido, qui abbiamo Cristina Freguia, la nostra conduttrice, che ha coordinato una ricerca proprio su questa, di frequentare una scuola di infanzia a tempo pieno commensa, di frequentare una scuola primaria a tempo pieno. Questo significa che nascere in certe zone d'Italia, anche a parità di condizioni economiche, con i cotanei del resto d'Italia, espone alla possibilità di avere meno risorse educative pubbliche, quindi a minore risorse per lo sviluppo delle proprie competenze, delle proprie capacità, il che è in contrasto, come già stato ricordato, con l'articolo 3 della Costituzione, che io ricordo sempre dovrebbe valere anche se non soprattutto per i minorenni, per i bambini e non soltanto per gli adulti. Anche i minorenni sono cittadini e soggetti umani. in questo contesto, perché mi sono, ho detto queste cose che probabilmente sono note ai più, perché cercando di fare ricerca sulle disuguaglianze tra bambini, tra minorenni, uno si scontra immediatamente con una carenza di dati. ci sono, poi là, e sono molto contenta di sentire che adesso c'è un protocollo tra la Fondazione Ragunne e l'Ista sulla povertà educativa, che sarebbe ora di avere degli indicatori un poco più precisi, però i dati in generale sulle disuguaglianze tra i minorenni sono molto scarsi. Gli ultimi dati, per esempio, su l'accesso alle cure mediche, sono ormai molto, molto vecchi per la popolazione in generale, ma per i bambini in particolari. Io ormai non li cito più perché mi vergogno a citare dati ormai di più di dieci anni fa che dicono che i bambini che stanno in famiglie più economicamente più svantaggiati, soprattutto se vivono nel mezzogiorno e rischiano di non vedere mai un medico a meno di essere portati al pronto soccorso nei primi anni di vita, che non c'è il pediatra e queste cose. Ma mancano anche dati rispetto alla deprivazione materiale. Ricordi, Cristina, Euro è stato un anno, fece un'andagine sperimentale introducendo degli indicatori di deprivazione materiale specifici per i minorenni, che sono in parte, certo, la deprivazione alimentare vale per i minorenni come per gli adulti, ma ci sono delle deprivazioni specifiche che vanno studiate. Che cosa vuol dire non poter mai partecipare a una gitta scolastica, per esempio, o non poter avere le cose che hanno gli altri. Per cui mancano, l'Ista per un anno ha continuato questo sperimento di Eurostan, ma poi non si è fatto più nulla e secondo me bisognerebbe ricominciare. Rispetto allo sviluppo cognitivo ne avete già, ne abbiamo già parlato e quindi non ne parlerò, però forse anche altri dati sulla fiducia nelle proprie capacità, sull'equilibrio emozionale, eccetera, sarebbero necessarie. E poi ho finito, ho finito. Ok, perfetto. Ho finito, è l'ultima. E anche rispetto alle decisioni critiche, qui prima si parlava dei dati longitudinali, ma noi sappiamo che al di là dei primi mille giorni poi ci sono degli snodi critici, la scelta della scuola, se continuare o no di andare a scuola, eccetera, su cui abbiamo dei dati oggettivi. La maggioranza dei bambini svantaggiati va nelle scuole tecniche o addirittura nei istituti professionali, mentre i figli dei più ambienti vanno a prescindere dalle loro capacità nei licei o nelle cose. Però qualche cosa di più fine su questi snodi critici, anche per poter intervenire, sarebbe importante averlo. Grazie. Grazie, grazie infinito Chiara. Ringrazio tutti i relatori per le loro interessanti relazioni. Il tempo a nostra disposizione è finito. Lasciatemi soltanto dire che ridurre le disuguaglianze significa rafforzare i percorsi di una lunga vita attiva e in una società che è capace di di offrire a ciascuno pari opportunità, di sviluppare il proprio potenziale, a prescindere dalla provenienza socio-economica, non solo c'è più coesione sociale, ma si rafforza anche la capacità del paese di crescere da ogni punto di vista, anche quello demografico, di essere più competitivo in un mondo che cambia tanto rapidamente, di recuperare anche velocemente terreno in situazioni emergenziali come quella che stiamo vivendo. Grazie per il vostro contributo, per le vostre analisi che sono veramente preziose per tutte noi e per i nostri figli. Buona serata. Grazie. Grazie. Grazie.